Oggi presenta il suo libro L'Anatra Zoppa, da dove nasce questo titolo molto particolare? Dall'idea dell'Europa che purtroppo ha una gamba molto forte che è la gamba monetaria e una gamba debole che quasi non esiste, cioè la gamba del governo economico. Dobbiamo superare questa contraddizione, questa simmetria, il fatto che abbiamo una moneta unica e non abbiamo un governo economico. Questa è la prima sfida che deve vincere l'Unione Europea. Lei nel suo libro affronta temi che variano dalla crisi economica ai consumatori, i temi energetici, tutti temi che hanno un denominatore comune, appunto l'Europa. Che posizione ha l'Europa concretamente nell'applicazione pratica della risoluzione dei problemi? L'Unione Europea con il nuovo trattato di Lisbona acquista nuovi poteri, così il Parlamento Europeo, che diventa co-legislatore in tutti questi campi. Abbiamo bisogno però di dare più risorse, non solo nuovi poteri, più risorse finanziarie per fare un grande piano europeo di investimenti pubblici. Un piano che riguardi l'occupazione, le infrastrutture immateriali, la formazione, la ricerca, l'istruzione, gli Erasmus per tutti i giovani, le energie da fondi rinnovabili, più risorse finanziarie per realizzare un grande piano che ci faccia uscire dalla crisi con una spinta in avanti, non piegati, non dissanguati come siamo ora, in un contesto ora, quello attuale, di grave crisi, di disoccupazione dilagante, di grave crisi sociale, di grave crisi dei bilanci di tutte le nostre famiglie. Di recente il Parlamento ha discusso il bilancio del 2011. Che valenza e che posizione occuperanno i giovani? Noi abbiamo sostenuto tutti i programmi Erasmus. Io posso dire con una punta di fierezza di essere il padre degli Erasmus allargati. Prima c'era l'Erasmus soltanto dei giovani universitari, adesso c'è l'Erasmus dei giovani imprenditori, dei giovani professionisti e dei giovani della pubblica amministrazione. E li ho promossi io. Oggi il bilancio europeo rafforza questi programmi. Dobbiamo arrivare di qui a qualche anno ad un programma Erasmus universale che copra tutte le fasce giovanili dai 16 ai 35 anni. Quindi a parte il bilancio economico, un suo personalissimo bilancio, crede che nel futuro quest'anno andrà a riuscirà a guarire? Deve guarire per il bene dei cittadini. Non è una mia aspirazione personale quella di un romantico che ama l'Europa. Sì, è anche quella. C'è un bisogno forte che riguarda i cittadini. I cittadini saranno più sicuri, più forti, potranno guardare con più fiducia al futuro se ci sarà un'Europa forte. E quindi noi dobbiamo batterci perché l'Europa si rafforzi, guadagni credibilità, guadagni risorse e consolidi i suoi poteri. Grazie.